Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo. Come vedete dal titolo, oggi assaggerò per voi queste tortiglia chips al gusto tikka masala. Appunto, come vedete dalla confezione, sono appunto una specialità indiana, appunto per quanto riguarda almeno il sapore. E vengono prodotte in Belgio, in realtà non so come mai, vi faccio anche vedere appunto gli ingredienti e i valori nutrizionali. Quindi dopo aver visto com'è più o meno la confezione, direi di andare ad aprire, diciamo che a vedere l'immagine direi che mi aspetto delle patatine belle spesse, però vediamo. Un profumo decisamente ottimo e vi faccio vedere che appunto sono delle patatine e sembrano anche abbastanza spesse, quindi dovrebbero essere pelle croccanti, quindi direi di assaggiare. Non so se avete appunto detto gli ingredienti, sono appunto al mais, sono appunto simili al tortiglia, semplicemente hanno la forma rotonda, ve ne faccio vedere un'altra. E appunto sanno parecchio di mais di tortiglia, però sono molto buone, molto speziate, appunto ricordano molto i sapori della cucina indiana. Quindi almeno per quanto mi riguarda sono assolutamente promosse, se le trovate nel Lidl che c'è magari vicino a casa vostra, potete comprarle e magari provare ad assaggiarle per appunto avere delle patatine a un gusto un pochino diverso, magari per una cena tra amici o per un aperitivo. Quindi se questo video l'avete trovato interessante, come al solito lasciate un bel like e se volete seguirmi nelle mie avventure iscrivetevi al canale. Se le avete provate anche voi o volete consigliarmi qualche cosa da provare di particolare che riesco a reperire, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure anche al di fuori dei video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!